Buongiorno da Shmersal Italia. Con la più vasta gamma al mondo di dispositivi di commutazione e sistemi di sicurezza, ci proponiamo come partner leader di costruttori di macchine e end user, progettando nell'ambito dei safety services soluzioni su misura per la sicurezza macchine. Durante i Digital Days presenteremo le nuove elettroserature di sicurezza ZM40 e AZM150, dal design ultracompatto e livello di codifica alto. Vi aspettiamo con un interessante workshop sul tema e con tanti altri contenuti su Contact Place. A presto!